E' la cerimonia che ogni anno è di esempio a tante giovani coppie che magari hanno iniziato da poco il loro percorso insieme. Loro si amano da 50 anni e anche quest'anno rinnoveranno le loro promesse d'amore al Centro d'Aggregazione Sociale Fiorentina ad Arezzo. Un evento che da 16 anni il centro organizza grazie ai tanti volontari che si danno da fare per festeggiare al meglio questo bellissimo traguardo. Una manifestazione che non poteva che essere in calendario per il 14 febbraio San Valentino Festa degli Innamorati. Le oltre 100 coppie che hanno risposto all'invito parteciperanno la mattina ad una Santa Messa in Duomo e si ritroveranno nel pomeriggio al Centro di Aggregazione alla presenza dell'Assessore Comunale Lucia Tanti che rinnoverà l'atto matrimoniale e di Don Alvaro che impartirà la sua benedizione. Presenti anche le altre autorità locali e regionali che ogni anno presenziano la cerimonia. La promessa, il rinnovo del sì, un bacio per suggellarla e dopo una fetta di torta la consegna di una pergamena che ricorderà a questi sposi l'impegno che li unisce da 50 anni.